Giordana Giordini, presidente orafi di Confindustria, netto aumento del prezzo dell'oro salito a 2492 dollari l'oncia. Come commenta questo dato? È un momento abbastanza particolare, appunto c'è una situazione macroeconomica difficile. Ovviamente abbiamo le guerre in corso, la guerra in Ucraina e la guerra in Medio Oriente e questi sono fattori che fanno risentire oscillazione al prezzo dell'oro. Ma soprattutto i dati della Federal Reserve americana che riducendo l'inflazione l'oro sale notevolmente. Si prevedono appunto nei prossimi mesi, soprattutto fino alla fine dell'anno, dei forti innalzamenti del prezzo dell'oro. Comunque di sicuro non un calo a breve. Quindi questo comporta per noi orafi soprattutto le oscillazioni appunto come quella che lei citava, quella che si è registrata in questo fine settimana, delle tensioni con i nostri clienti. e quindi una difficoltà a lavorare. Ora le aziende sono chiuse e riprenderemo appunto alla fine di agosto. Abbiamo subito una fiera importante che è quella di Vicenza ai primi di settembre e che quella sarà diciamo appunto il termometro per lo stato dei nostri ordini appunto. Quindi è l'inizio della seconda parte dell'anno che dovrebbe essere la parte anche più proficua perché si prevedono appunto ordinativi e vendite per il periodo natalizio.